Poi tancione un po' con il fratello? Eh, shhh... Quanto è uomigig heroes Nel speaking! E tu te l'eccote la cottola a tattolo insieme a te che ti? Tu... Che roscaghe? Eeeeeeeeh... Eeeeeeeeh... Shhh... Hfoli jovi. Eppoconna se tatt'ot'ora potrebbe un po' gioco che non so ora fa il che reto! Eeeeee... Eeeeeeeeh... Eeeeeeeeh... Shhh. Eccolo tutto e sembraete